Buonasera! Ma che soddisfazione! Finalmente ho trovato un fidanzato! Ma è così noioso! Allora io ho deciso di farlo travestire, soprattutto nei momenti caldi! Per esempio l'altra sera l'ho fatto travestire da Tarzan! Allora io entro in camera da letto e ci dissi Tarzan! Sono la tua Jane! Jane? Con tutto il suo velo si cita! Che soddisfazione! Allora la sera dopo l'ho fatto travestire da ladro! Ci miso un bello passamontagna e ci si gioia! Sassi da finestra e prendimi con violenza! Passavano 10 minuti e non si vedeva nulla! Ma faccia da finestra? Non ci stava portando una camionetta di carabinieri! Che soddisfazione! Così l'ho rivisto qualche mese dopo e allora l'ho travestito da Pinocchio! Mucurcai al lato di lui e ci dissi Pinocchio! Raccontami tante, 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 tante bugie! Dici gioia! Io ti posso contare tutti i bugie che vuoi! Ma tutti al lato non mi lunga né naso né niente! Che soddisfazione! Dove stima ancora la mollica!